Qui siamo nel cuore del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, in una delle aree più affascinanti e probabilmente anche meno conosciute. Abbiamo voluto organizzare questo trekking fotografico di due giorni, farlo partire proprio da qui, per raccontare ai partecipanti con la giusta lentezza che il cammino delle Dolomiti necessita. Uno dei motivi per cui le Dolomiti sono state inserite nella lista del patrimonio mondiale. Un gruppo piccolo, volutamente ristretto, per avere modo di riflettere, di confrontarsi non solo sulla tecnica fotografica, ma anche sull'arte di descrivere il patrimonio delle Dolomiti e raccontarlo dal punto di vista paesaggistico e geologico. Un altro modo per vivere le Dolomiti, i rifugi del patrimonio mondiale, metterli in connessione con i sostenitori della fondazione, con i parchi, con i territori che condividono questo unico grande patrimonio.